Il ragazzo sta bevendo latte. The boy is drinking milk. Lei sta mangiando una mela. She is eating an apple. L'uomo sta mangiando un uovo. Loro stanno mangiando panini. Lui ha un gatto. Lei ha dei panini. Loro hanno un giornale. Loro hanno penne. Lui sta guidando una macchina. Loro stanno leggendo un giornale. Loro stanno leggendo un uovo. Loro stanno leggendo un uovo. Grazie a tutti